Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Crisi o no? Le ultime indiscrezioni svelate da Dejanira Marzano hanno scatenato il gossip sul presunto gelo tra i due. Durante l'ultima ospitata Domenica Inn, le parole di Sonia Bruganelli hanno fatto pensare a una possibile nostalgia per il matrimonio con Paolo Bonolis e assensi di colpa per averlo lasciato. Le smentite da parte dei diretti interessati non hanno placato i dubbi, soprattutto dopo l'indiscrezione lanciata da Marzano su Instagram. Durante Ballando con le stelle sembrava che Bruganelli e Madonia litigassero o si ignorassero, alimentando ulteriori dubbi sulla loro relazione. La situazione si è fatta ancora più intricata quando Bruganelli ha parlato di rimpianti riguardo al matrimonio con Bonolis, mentre Madonia ha smentito la crisi, ma ha lasciato intendere che ci potrebbero essere novità in arrivo. Le foto condivise e poi cancellate sui social hanno alimentato ulteriori speculazioni sullo stato della loro relazione. Resta il mistero su cosa stia realmente accadendo tra i due, mentre il gossip continua a tenere banco. Restate aggiornati sulle ultime news su tv personaggi e gossip iscrivendovi.